Ciao da Avsim! Non c'è ancora nulla di definitivo al momento questa mattina di domenica 26 gennaio 2020 nello scambio tra Juventus e Paris Saint Germain che porterà De Sciglio a Parigi e Leivin Kurzawa alla Juventus però è ormai cosa fatta. Manca veramente soltanto l'ufficialità che arriverà naturalmente nei prossimi giorni e perché lo sappiamo? Lo sappiamo anche perché sia Kurzawa che De Sciglio non sono stati convocati dai rispettivi allenatori quindi Sarri e Tuchel per le rispettive partite di campionato. Su De Sciglio possiamo anche pensare che si tratti di una condizione fisica non ottimale sebbene in conferenza stampa Sarri non ne abbia parlato ma per Kurzawa è un indizio che fa una prova anzi Sarri in conferenza stampa ha detto che Paratici gli ha detto che c'è un'ipotesi ma nulla di definitivo rispetto a questo scambio beh significa che ci stanno lavorando e quindi andrà tutto a definirsi così come è stato prospettato cioè Sarri non ha mai detto Paratici mi ha detto che c'è una trattativa in corso se lo dice in questo caso è perché parliamo veramente di qualcosa di concreto quindi non c'è dubbio non c'è dubbio lo dico anche perché era trapelata qualche voce no ma sta saltando c'è una squadra inglese su Kurzawa in realtà sì c'era se non sbaglio l'Arsenal ma qualche giorno fa o qualche settimana fa ma se ne era parlato perché Kurzawa va in scadenza a giugno quindi era un discorso completamente diverso e qui arriva anche la conferma del fatto che la Juventus su Kurzawa ci è arrivata tardi ci è arrivata dopo e ci è arrivata per necessità e per urgenza ma non perché avesse programmato se non magari in tempo risalente e per altre necessità di andare a prendere questo giocatore cioè magari Kurzawa era stato già studiato era stato già valutato e preso in considerazione e sicuramente è stato anche chiesto a Sarri più o meno cosa ne pensa anche se Sarri in conferenza stampa ieri pre-Napoli Juventus ha detto che non ha ancora studiato Kurzawa lo ha visto giocare per caso qualche volta però poi la decisione di andare su Kurzawa è venuta in maniera estemporanea perché si è fatto male Danilo quindi che ne diciate, che ne possiate dire c'entra Danilo anche se Danilo è stato preso come terzino destro in un discorso in cui andiamo ad acquistare un terzino sinistro di riserva perché i terzini della Juventus quest'anno sono stati gestiti un po' male, un po' così non si capisce chi dovesse essere il terzino destro titolare perché comunque Danilo l'hai preso anche con l'idea che può giocare anche a sinistra De Sciglio te lo sei tenuto e Sarri aveva detto che era uno dei tre giocatori più tecnici della Rosa questa poi ce la dovrà spiegare anche perché è molto utile, gioca da entrambe le parti però poi alla fine con quadrato terzino destro titolare ci siamo arrivati a stagione già iniziata sebbene da poco e non era assolutamente una decisione preventivata ma non voglio tornare sul discorso della programmazione volevo sottolineare una cosa che mi ha incuriosito tantissimo nell'andare a conoscere meglio Kurzawa perché ovviamente figuriamoci se seguivo sui social Levin Kurzawa non sapevo neanche dell'esistenza tra virgolette cioè non seguo il calcio francese non mi interessa molto del Paris Saint Germain non conosco tutti i giocatori d'Europa e soprattutto non li seguo sui social anzi soprattutto su Instagram cerco di seguirne meno di 300 circa 200-250 perché li seguo con attenzione perché voglio effettivamente capire informazioni dai calciatori della Juventus le calciatrici della Juventus le Wags che seguo per capire gli spostamenti anche la vita privata dei calciatori e impazzirei se andassi a seguirne troppi ma vedendo il profilo Instagram e le ultime storie di Kurzawa in particolare in cui andate a vedere una partita di basket con Neymar, con Bappé, con Marchinhos, con Icardi insomma una bella banda devo dire che si tratta veramente di un giocatore superante ma di una personalità esuperante cioè parliamo dell'opposto di Desciglio e questo è un discorso che un po' mi incuriosisce c'è anche un discorso di de-italianizzazione della rosa della Juventus perché in questo momento ne restano se non sbaglio sei compresi Buffon e Pinzoglio cioè Pinzoglio che non gioca mai Buffon che è moltissimo avanti con l'età e quindi è destinato ad uscire pure lui e Chiellini in realtà pure lui alla fine sarà sostituito da due stranieri comunque sia Bonucci e Chiellini saranno sostituiti da due stranieri perché De Ligt e De Mirau non sono italiani ed è un discorso che lascio da parte perché non mi è mai interessato più di tanto lo zoccolo duro italiano la tradizione italiana la Juventus è una tradizione di valori ed è una tradizione anche di mentalità che va tramandata a prescindere dalla nazionalità cioè non penso che Di Bala siccome non è italiano e ha comunque origini italiane non è in grado di acquisire la mentalità della Juventus cioè sarebbe anche un po' razzista come discorso quindi non mi interessa veramente nulla della de-italianizzazione della Juventus anche se capisco che è comunque qualcosa di cui parlare perché è un'interruzione in qualche maniera di una tradizione che dura da decenni ma sul discorso De Sciglio veramente siamo agli antipodi cioè De Sciglio è quel ragazzo molto compito molto compassato, educato, lineare che non fa mai un tipo di esuberanza la fidanzata di De Sciglio non ha neanche i social per dire o se ce l'ha mi sembra o forse ce l'ha ma ha il profilo privato quindi ma neanche De Sciglio pubblica molto non pubblica mai anzi storie su Instagram quindi nessuna praticamente apertura sulla sua vita privata niente che possa far pensare come tra virgolette spende i soldi e che cosa fa se magari partecipa a eventi mondani fa tardi la notte acquista macchine costose per fare solo degli esempi quindi sembra quasi De Sciglio sembra quasi che a Torino stia studiando al Politecnico sia andato a studiare al Politecnico piuttosto che fare il calciatore cioè veramente è un tipo di giocatore che non ne fabbricano più appartiene probabilmente ad una vecchia tradizione di calciatori italiani appunto molto come devo dire quello che spicca di De Sciglio probabilmente è l'educazione e il fatto di stare al posto suo e di non andare mai sopra le righe ma veramente anzi di essere quasi anonimo quasi anonimo dall'altra parte Kurzawai è un Dani Alves francese praticamente e da questo punto di vista proprio Dani Alves ci aiuta a capire cosa che se siamo riusciti appunto a impacchettare lui riusciremo a impacchettare anche Kurzawai cioè l'esuberanza di Kurzawai capelli sempre variopinti sempre con tagli diciamo acconciature diverse di tanto in tanto look particolarissimi abbigliamento che indescrivibili a livello di colori a livello di stile cioè è veramente qualcosa che lo guardi e dici ma questo A non fa il calciatore B sarà almeno un rapper o comunque un hip-hopper quindi un cantante oppure qualche altro genere diciamo di persona del mondo dello spettacolo perché sembra più quello cioè persino Pogba a confronto a Kurzawai è uno vestito in giacca e cravatta per dire quindi veramente siamo agli antipodi ed è una cosa che incuriosisce perché significa evidentemente che la Juventus a questo tipo di aspetti non bada o non bada più perché non so se effettivamente è vera la storia che per andare alla Juventus devi essere un soldatino come dice qualche ex calciatore che non è mai stato un vero calciatore che non so perché venga accostato alla storia del calcio italiano lasciamo perdere non so se sia mai stata vera questa storia però se è stata vera abbiamo smesso di badare a questi aspetti perché altrimenti uno come Kurzawa non l'avresti preso perché sarebbero intervenuti discorsi come ma questo qui è superante ma questo qui spacca lo spogliatoio ma come fai con la mentalità Sabao da Piemontese ad inserire un giocatore del genere dentro la Juventus lo stile Juve eccetera sono cose che ci sono ci sono state ma o sono state fraintese o sono state in qualche maniera rivisitate superate in funzione di qualcosa di nuovo che magari è racchiuso dentro il live ahead e l'apertura internazionale della Juventus che è trascinato ovviamente da Ronaldo da Cristiano Ronaldo che non è esuberante anzi è un professionista di massimo livello ma questo infatti non voglio dire che Kurzawa non pensi ad allenarsi sono stili diversi c'è chi si concentra testa bassa non fiata mai sembra non avere nessun altro spessore nessun altro interesse al di fuori del lavoro ho sempre un po' di titubanzi e di dubbi nei confronti delle persone di questo tipo ma è una mia idea soggettiva e chi invece sembra avere appunto uno spessore in più sembra avere anche la testa altrove che non sempre significa distrarsi può significare anche invece avere come dire una polietricità essere multitasking avere un'apertura mentale però diciamo Kurzawa a guardarlo così non voglio entrare nel discorso tatuaggi perché poi entrerai nei pregiudizi cioè io per esempio tatuaggi non ne ho e credo che non ne farò mai ma non giudico chi ne ha però è capito che proprio a livello di immagine sta anche lì la differenza perché Deciglio ripeto sembra il ragazzo che porta la spesa a casa la nonnina che esce dal supermercato rispetto a Kurzawa che invece sembra quello che sta davanti al supermercato immaginando la stessa scena con la musica a palla dentro la macchina con gli sportelli aperti insomma questo ma senza senza entrare negli stereotipi voglio dire non voglio semplificare e generalizzare però la curiosità che è poi amplificata anche da un articolo che è uscito ieri su Gazzetta che fa diciamo fa menzione di presunte presunti problemi guai con la giustizia di Levin Kurzawa in passato che poi in realtà che cosa si riduce al fatto che è stato vittima di tentata estorsione perché aveva girato un video privato dentro casa sua in cui insultava o comunque criticava aspramente di Die Deschamps CT della nazionale francese e già questo racconta molto di Kurzawa figuriamoci se Deciglio prende mai il telefono e fa un video già prende mai il telefono e fa un video punto figuriamoci se fa un video in cui critica il CT della nazionale Mancini in questo caso o chiunque mai sia stato o addirittura l'allenatore della sua squadra come Allegri in passato che lo ha voluto lo ha amato al Milan lo ha voluto alla Juve lo ha portato e non l'avrebbe mai fatto andare via infatti la fuoriuscita di Deciglio da questo punto di vista è anche uno dei segni dell'abbandono di Allegri dell'esonio di Allegri del cambio di guida tecnica e questo è stato sottolineato giustamente da molti anche se io non gioisco per la cessione di Deciglio perché così si va a dilapidare tra virgolette l'eredità il patrimonio di Allegri sono cose che non mi entrano in testa per me non significano veramente nulla però la curiosità era questa dicevo il discorso poi di guai con la giustizia ovviamente cosa devono mai scrivere la Juventus acquista un giocatore devono andare a spulciare nella sua vita privata per andare a trovare qualunque tipo di struttura qualunque tipo di imbarazzo qualunque tipo di situazione controversa nel passato che magari si rifà a anni e anni e anni addietro oppure viene semplicemente travisata e raccontata male ma a questo diciamo ci siamo abituati poi invece chi viene acquistato dalle altre squadre in particolare dall'Inter è un angelo è un angelo sceso dal cielo vabbè ripeto abbandonando generalizzazioni e stereotipi ho provato semplicemente a dirvi la mia su questa questione oltre agli aggiornamenti ovviamente sullo scambio perché vi dicevo la mancata convocazione di Kusawa e De Sciglio da una parte e dall'altra significa tanto ditemi la vostra nei commenti anche critiche nei confronti della mia opinione che vi ho espresso perché mi rendo conto che possiate assolutamente non essere d'accordo su questo discorso ma comunque sia grazie per l'attenzione mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie per l'attenzione